Buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati nel vlogmas numero 3 di quest'anno. Sto facendo colazione, sono le 9 anche se sono andata a dormire verso le 2 e mezza. Ora ricomincio a non dormire l'altra volta da quando sono tornata, che meraviglia. Vi ricordate l'altra mattina quando avevo fatto il porridge? Me ne ero avanzato un po' ma me l'ero scordato in frigo, quindi lo sto mangiando oggi. Quindi adesso, allora, accendo la stampante, che devo stampare delle cose per vintage che devo andare a spedire dopo. E poi devo dare da mangiare a questi cagnolini. Vuoi la pappa? Vuoi fare la pappa? Anzi, vuoi fare la pappina? Ora sono a fare tutti i miei vari giretti. Ho portato i pacchetti, sono passata alla prima posta e ovviamente il macchinario per sbloccare, non ho capito la carta, il macchinario che mi ha detto. Non funziona da ieri, giusto? Perché? Cioè, sembra una barzelletta. Una cosa mi serve, una cosa non funziona. Vabbè che quelle poste là c'hanno sempre qualche problema, però, cioè, io voglio dire, proprio quel macchinario, vabbè. Sono andata al secondo ufficio postale, chiuso. Chiudo a l'uno e un quarto. Quindi sto cercando di andare al terzo ufficio postale, perché ho bisogno che la carta mi sia sbloccata. Vediamo se riuscirò in questa mia missione entro, non lo so, ai tre di questo pomeriggio. Anche perché dopo devo tornare a casa, fare le unghie a mia madre, devo anche far vedere i nuovi prodottini che sto usando, che sono bellissimi. E in realtà devo rifarle anch'io, perché, non so se vedete, ma si sono staccati tutti i brillantini. Soprattutto questa mano non ci sono più, e qui ne sono rimasti due. Quindi volevo, sì, togliere il colore, tanto solo superficiale. È stato bruttissimo, perché mi hanno letteralmente tagliato la carta davanti agli occhi. Quindi al momento non ho la carta. Appena arriva a casa, la nuova carta, poi devo andarla ad attivare. E non lo so, sono molto perplessa. È a quanto pare l'unica cosa che si poteva fare. Ah, in tutto ciò non vi ho detto che la mia macchina funziona benissimo finalmente. E sono quasi le quattro, quindi mi sono dovuta fermare qui al back a prendere qualcosa. Me lo merito, me lo merito. Ho appena finito di fare le unghie a mia madre. Non chiedetemi perché ho ancora il cappellino in testa. E' da stamattina che c'ho in testa. Stavo così bene, neanche me ne sono accorta. A un certo punto mia madre fa, ma perché c'è il cappellino in testa? E mi sono scordata. Oggi ho questo look da tomboy un po' così. Comunque, io ho fatto le unghie, se n'è appena letteralmente andata a prendere il treno. Quindi non ho fatto neanche il tempo a farvele vedere. Adesso vi faccio vedere i produttini che ho usato e che devo usare anch'io. Che succede, Icy? Non si sa. Nel mentre faccio una piccola pausa, mi sono fatta un bicchiere di latte. Così. Tra l'altro freddo che adoro. Faccio vedere qui tutto il mio kit con le cose che appunto sto per utilizzare. Il marchio si chiama Manicurist ed è un marchio francese. Vi invito ad andare a controllare il sito giù nell'info box se vi interessano i vari prodottini. Anche perché ho un codicino sconto che potete inserire, quindi fa sempre comodo. La cosa fighissima di questi prodotti è che come leggete qui sono green, quindi sono plant based, quasi interamente composti da prodotti appunto biodegradabili. Sugar cane, richeuse seeds ed è un solvente. Allora io ho appunto il solvente che vi faccio vedere anche poi dopo come utilizzare per togliere i prodotti. Poi ovviamente ci sono i colori che ho scelto, ce ne sono tantissimi sul sito. Io ad esempio ne ho presi tre. Ho preso questo qui che si chiama Hollyhock. Poi ovviamente il nero che penso utilizzerò, Licuris. E poi c'è questo qui color carne che si chiama Shell Beige. E ovviamente qui abbiamo la base e qui c'è il top coat. Mi hanno mandato anche la crema mani alla lavanda, guardate che bella, che è abbinata al gel color che ho adesso sulle unghie. Ovviamente sul sito trovate anche la lampada, che è questa qui, è super figa perché guardate qui anche i tastini per base, colore e top. E quindi adesso vi metto all'opera, quindi prima smonto queste e tolgo sto brobita qua che c'ho sopra. Allora, questo è l'effetto solo con la base, 60 secondi. Ora vado a mettere il colore. Sono molto particolari perché sembra quasi uno smalto normale quando lo applicate, infatti lo dovete estendere velocemente. E poi lo ho andato a mettere in lampada, così si va a seccare, insomma, a cuocere. Vi faccio vedere intanto su questo dito. Allora, questo è il risultato del prodottino, come vedete super lucido, super coprante questo nero, bellissimo. E adesso vi faccio vedere anche come si rimuove con il solvente. Vi basta un paddino, ci mettete sopra il solvente e lo lasciate sopra per all'incirca una trentina di secondi. E lo rimuove proprio tipo smalto. Dopo aver ottenuto premuto l'ho andato un po' a girare, eccetera, e si toglie tutto. Troppo una figata sto prodotto. Ripeto, trovate tutti i prodotti nell'info box, io adesso finisco, così poi ho il tempo di farmi anche la cena. Ora, nel mettere che mi smonto l'altra mano, sto finendo di vedere Spider-Man 2, sto facendo il mio revoccione. In realtà il mio Spider-Man preferito è sempre stato quello di Andrew Garfield, cioè l'Amazing Spider-Man. In generale, sia come coppia, sia come lui, come Spider-Man. Sono passata al terzo Spider-Man. Non si legge niente, vabbè, questo Sandman. Guardate che belle le unghie! Oddio, era una vita che non le facevo nere. Cioè non c'è niente da fare, il fascino delle unghie nere, ragazzi. È assolutamente stupendo. Per cena mi sono fatta il topo-kiri, che sarebbero questi gnocchi di riso. In questo caso io avevo questo, che è la versione con la pasta di fagioli. Infatti vedete, è questo colorino qua. Però avevo anche la versione, quella super super spicy, che ho già mangiato. Nel mentre sto leggendo i vostri commenti sotto l'ultimo vlogmas. Sappiate che io li leggo sempre tutti, anche se non rispondo sempre, cerco sempre di mettere a non il cuoricino. Quindi nel mentre mi faccio la mia cenetta. Anche perché voi non ci crederete, ma sono le 10 e 10. Ho appena finito di fare la mia skin care, quindi mi vedete un pochino rossa. Comunque sono le 2 e 4. Non ho capito se mi è salito un po' di jet lag o cosa, ma sono 2-3 giorni che vado a dormire più tardi. Il bello è che non ho mai sonno, quindi potrei tirare avanti veramente tipo un'altra giornata. Però tra un po' mi metto a dormire, perché sono passata al terzo Spider-Man. Tra l'altro vi trovate tutti su Netflix PS. Se volete fare anche voi magari watch prima di questo film che sta per arrivare. Quindi per oggi vi saluto. Non ho ben capito che cosa ho fatto nella giornata di oggi, quindi domani quando monterò questo video e ve lo caricherò, capirò. Ci tenevo soltanto a dirvi un'ultima per la serale prima di lasciarvi. Fate sempre quello che vi rende felici. Non importa se ci sarà qualcuno che vi giudicherà, che cercherà di frenarvi o mettervi i bastoni fra le ruote. Cercate di essere felici. Ma non cercate la felicità a lungo termine, perché non esiste. Cercate la felicità nelle piccole cose. Tante piccole cose che vi rendono felici. Perché purtroppo non si può essere felici sempre. Quante volte ho detto felici? Però a volte ti basta quella piccola dosa ogni tanto, no? Quindi niente, ci tenevo a dirlo perché non è una cosa scontata. Molto spesso siamo noi stessi che ci precludiamo. Il fatto di poter appunto essere felici, quando in realtà magari sarebbe più semplice di quello che appare o che pensiamo. Quindi niente, riflettete su questa cosa. Così mi andava di dirvela. Quindi per oggi vi mando un bacio grande, grande, grande. Ci teniamo compagnia in questi giorni prima del Natale e nei prossimi. Ciao!